Io penso di riuscire a fare questa adesso, spero, probabilmente era dall'altra parte dell'afterlife perché mi ricordo che l'avevo preso su Omega quindi non è possibile che qua non ci trovi Ah ok, pensavo di averli passato attraverso, qua? Certo Torniamo sulla Normandy, dottoressa ambriacore Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato Come posso aiutarti, comandante? Ho un regalo per te, dottoressa Del brandy series size, non dovevi, grazie Che faccio? Ho sempre rimpianto di non aver aperto quella bottiglia originale, finché potevo Questa volta non farò lo stesso errore, perché non apriamo subito la bottiglia? Qui, tu e io Sì, qui tu e io, fanculo l'età Ah no, scusa Tu apri la bottiglia, io prendo i bicchieri Pensavo che l'esplosione biotica di Alenco potesse aver spezzato la schiena di Jenkins Ma lui salta su e urla, è stato incredibile Ah, Jenkins Sono i soldati come lui a rendere grande l'alleanza A Cerberus manca lo stesso entusiasmo Con il tuo stato di servizio potevi salire su qualsiasi nave dell'alleanza Perché te ne sei andata? Forse non riguarda davvero l'andarsene, ma più il restare In quanto dottoressa militare, curo per lo più pazienti gravi Spesso muoiono E se riesco ad aiutarli, vanno altrove In entrambi i casi, se ne vanno Non hai degli amici o una famiglia? No, gli amici non mi mancano Solo la stabilità Jeff, Joker avrà sempre la sindrome di Vrolick Non lo ammetterebbe mai, ma ha bisogno del mio aiuto E lo avrà sempre Vorrei che non fosse così, ma... Purtroppo è vero Allora, a Joker Agli amici All'alleanza Alleanza, come parlo All'alleanza E ai caduti O ai caduti Capisco Curare Joker ti dà una certa stabilità Lo stesso vale per questa nave Anche se è una copia O forse Diamine Sei tu Shepard Il nostro centro inamovibile Un luogo in cui le persone possono fermarsi a prendere fiato O forse sono solo ubriaca Per una volta Non potrebbe essere così semplice All'essere felicemente ubriachi Vai Un brindisi Con quale piede me lo stai dicendo? Oh, sono ubriaco La telecamera che si muove per i cazzi Suoi Oddio È finito l'effetto Niente È finita anche la missione Oltre all'effetto Missione molto carina